La Regione Toscana ha finanziato con 12 milioni e 300 mila euro un bando che punta ad aiutare a continuare ad abitare nelle loro case le persone non autosufficienti o affette da demenza sedile allo stadio iniziale, fornendo un adeguato supporto alle loro famiglie. Due le misure previste dal bando, un contributo da 400 a 700 euro al mese per le persone anziane non autosufficienti e un pacchetto di interventi fino a un massimo di 4 mila euro per le persone affette da demenza. Abbiamo cercato di focalizzare l'attenzione e le risorse proprio sulle tante famiglie che hanno una persona non autosufficiente in casa e spesso si trovano in grandissima difficoltà perché non sanno come fare. Con queste misure noi cerchiamo di dare una mano e nello stesso tempo cerchiamo di favorire l'emersione del lavoro nero che nel settore dei collaboratori familiari è molto diffuso e diamo quindi una mano alle famiglie ma nello stesso tempo cerchiamo di aiutare la regolarizzazione di tanti collaboratori familiari. Il bando per accedere agli aiuti sarà pubblicato entro luglio ed è stato finanziato attraverso il Fondo Sociale Europeo. I progetti dovranno essere presentati dalle società della salute o dai soggetti indicati dalla conferenza dei sindaci.